Un palco, 21 partecipanti e due giorni per dimostrare ad una giuria di qualità quanto sia realizzabile il sogno di cantare un giorno nel salotto musicale più importante d'Italia. Un sogno chiamato Festival di Sanremo, che per molti potrebbe cominciare da Barletta, la città che ha ospitato l'unica tappa pugliese del Casa Sanremo Tour, la manifestazione itinerante dedicata ai giovani talenti. 20 tappe in tutta la penisola da maggio fino a settembre, nel corso delle quali vengono di volta in volta scelte le voci che apprenderanno alle fasi finali di selezione che si terranno presso il Palafiori di Sanremo nella settimana che precederà la 69esima edizione del Festival della Canzione Italiana. Dal palco allestito in via Cristoforo Colombo, nella zona antistante della Lega Navale, la tappa barlettana, patrocinata dal Comune, ha visto esibirsi, dopo una preselezione digitale, 21 ragazzi degli oltre 100 iscritti in Puglia. Noi abbiamo avuto un ottimo riscontro di richieste da parte di ragazzi che si sono iscritti in questi mesi sul nostro portale, abbiamo deciso di fare due giornate in cui normalmente ascoltiamo i ragazzi ma raccontiamo anche l'esperienza sanremese attraverso il nostro format dell'Italia in vetrina. È un modo per fidelizzare con il territorio a cui siamo legati perché Casa Sanremo non è soltanto musica d'ascolto ma è anche e soprattutto la casa degli italiani in quella settimana, degli territori italiani che vengono a proporsi, a promuoversi. La Puglia l'ha fatta anche da padrone in queste ultime edizioni. Due serate dedicate alla musica italiana con esibizioni e salotti istituzionali. Una vetrina importante per la città nel segno della promozione del territorio. È stata un'occasione che abbiamo colto perché siamo consapevoli che queste esperienze comunque qui sono attuabili e noi abbiamo tutto quello che serve appunto per far parte di una vetrina di cui si parla, di questa esperienza sanremese, di una vetrina importante e quindi far conoscere una città che comunque è importante dal punto di vista delle bellezze paesiagistiche, monumentali eccetera e che quindi è impegnata anche su questioni di sviluppo economico, di imprenditoria da indirizzare nelle giuste maniere. A promuovere l'iniziativa nella città della disfida il pizzaiolo Francesco Barbaro, referente del progetto Casa Sanremo Barletta. Un'idea nata circa un anno fa in occasione della scorsa edizione della manifestazione. Ho avuto il piacere di essere ospite della Casa Sanremo dove ho presentato delle pizze portando con me i prodotti tipici locali e a fine edizione loro mi hanno riconfermato per la stagione successiva. A questo punto io ho detto sì, vengo, però ho una condizione che con me non viene solo la pizzeria, il locale privato, ma viene con me anche la mia città, la mia amata Barletta. ...ma soprattutto sia...